La Puglia può contare su 251 prodotti riconosciuti tradizionali dal Mipaf, 9 prodotti DOP e 29 vini DOC, oltre a 43 varietà vegetali studiate nell'ambito del progetto Biodiverso. È tra le prime tre regioni produttrici di cibo biologico con 4.803 produttori e la prima nel numero di trasformatori con 1.796 operatori. Un primato raggiunto anche grazie al fatto che la Puglia può contare, dice il presidente di Coldiretti Puglia Gianni Candele, su 245.000 ettari di aree naturali protette, di cui il 75,8% rappresentato da parchi nazionali del Gargano e dell'Alta Murgia e l'8,3% da aree naturali e riserve naturali marine. Le province che presentano la più alta percentuale di territorio soggetta a protezione sono quella di Foggia, 51,5% e Bari, 27,7%. In questi luoghi protetti la varietà vegetale comprende 2.500 specie. Sono questi tutti i dati presentati in Piazza del Ferraresi in occasione dell'apertura della quarta edizione del Festival della Ruralità organizzato dal Parco Nazionale dell'Altamurge Legambiente. È stata l'occasione di conoscenza dei numerosi prodotti biodiversi pugliesi a quasi un anno dalla definitiva approvazione della legge per la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. La grande attenzione dei consumatori alla tutela della salute e dell'ambiente attraverso scelte agroalimentari consapevoli è testimoniata quotidianamente dall'affluenza nei 90 mercati di campagna amica regionali che contano 4.500 giornate di apertura, 850 produttori coinvolti, 22.000 giornate lavorative, oltre 2.500 tonnellate di prodotto commercializzato.